Ogni volta che un call center ti contatta per proporti di cambiare il fornitore di energia, la polizza assicurativa o il contratto telefonico, verifica attentamente le condizioni previste dal contratto e prenditi il tempo che serve per approfondire e decidere. E se hai detto un sì di troppo, non ti preoccupare, anche ripensarci è un tuo diritto. Scopri come difenderti dalle telefonate commerciali insistenti e aggressive su difenditicosì.it. Campagna a cura di AGCM e Arera.